Per quattro giorni Spoltore ma anche altri centri dell'area metropolitana di Pescara ospiteranno questo raduno nazionale delle associazioni del Modavi. Di cosa si tratta e cosa farete in questi quattro giorni? Quello che si farà maggiormente nei quattro giorni è proprio la gestione dei campi di accoglienza perché il Modavi essendo una struttura della colonna mobile nazionale ovviamente ci prepariamo e ci alleniamo per quando riguarda di seguire i protocolli dettati dal Dipartimento di Produzione Civile per l'accoglienza della popolazione in caso di calamità. Successivamente oltre alla gestione degli ospiti che saranno nel campo ci saranno anche delle esercitazioni che verranno fatte in varie località del territorio del Pescarese e anche del Chietino e con simulazione di terremoto, ricerca persone sotto le macerie, ricerca persone delle zone boscate, simulazione di alluvioni, recupero delle persone in acqua e simulazione di antingeggio boschivo derivati dalle catastrofi che magari poi successivamente ha un terremoto, può scoppiare un incendio, insomma qualsiasi cosa e si interviene anche in questi ambiti. Non dimentichiamo che quest'anno l'Abruzzo ha dato moltissimo come servizio di protezione civile. L'Abruzzo è stata comunque una regione forse la più colpita a livello nazionale da grandissimi eventi, cioè parlando comunque da Rigopiano, poi le grandi nevicate, poi non ultime comunque quest'anno nel periodo estivo i due grossi ingenti che comunque hanno colpito la nostra regione. Una protezione civile che a mio avviso va comunque potenziata a livello regionale e mi auguro che comunque la regione possa fare comunque il tutto e il più possibile per dare alla situazione comunque di volontariato che si impegnano in prima linea tutti i giorni maggiori spazi e maggiori risorse.